Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale ragazzi Oggi Brawl Stars compie un anno esatto Ed è per questo che ci va a regalare una mega cassa gratuita ragazzi Totalmente gratuita Abbiamo tra l'altro un'altra cassetta gratuita al shop Quello che finisce a 149 gemme, un sacco di skin e basta Vabbè, sostengo Grax Niente ragazzi, direi di andarci direttamente ad aprire queste cassette Iniziamo dalla piccola Che non è alla fine tanto male Raga, andiamo con quella grossa C'ho, credo, abbastanza abilità stellari da trovare E anche Sandy, ma non troverò niente perché non troverò niente Vedete? 306 monete però 12 gems, 13 genio 28 corvo, a 777 8 bit e Tic raga, che schifo 400 doppi aggettoni e 8 gemme, buono così almeno Allora ragazzi, vogliamo un footbrawl Con Shelly Mappa molto aperta Molto, abbastanza complicata come mappa Buona giocata di... Ok, dai Passala lì Faccio il gol, quello figo Tanto che fa qualcosa di bello Ora, la prima mano le abbiamo fratturati proprio Il primo gol Andiamo qua al secondo perché Potrebbe andare molto male Ok, disattivo una bombetta È andato sul classico di Shelly perché mandava Dai, boh, va a casa Potrei provare a ultare, vediamo se si spreca la ulti Bonus, è sprecata la ulti Non tanto che timo Questo robo è un po' peccato Un po' buggato Dai, io zio DG Vado, che scarsi La prima andata Abbiamo 400 raddoppi oggettoni Andiamo a formare intanto questa cesta grossa Eccoci qua Siamo con un Simone X di X Che non ha senso però ok Non troviamo cesta allo spawn Questa mappa è interessante Ma ci potrebbe essere di meglio Perfetto Fermiamoci subito due power up Le vado a prendere Rischiamo poi di non prenderlo Boh, bello sto terzo power up Dai raga che ci facciamo pure il quarto Perfetto, pulito Va a morire Ma possiamo risolvere Abbiamo molto hittato Pocho Quel team da giù Secondo me è un perfetto Pocho spike Questo Frank Può andare giù E va giù Mannaggia a me Bella giocata di Simone Che riesce a scappare Non ti fermare Zio Perfetto Peccato Perché avevamo molti paura Aia raga Siamo quasi impaninati Siamo un team da zero Ve lo dico Questo è il primo Molto forte 9300 di vita Il team spike Il team spike Pocho Sta vincendo Il team dominante Tre squadre rimaste Ems è una bestia Mi fa malissimo Questo spike Perché comunque Con una spinetta Fa mille 3334 Allora Rimango qua dietro Per ora Non fa niente Dai che qualcosa è morto Dai era morto Fa malissimo Solo con le spinette Sto qua Direi di Possiamo andarci A prendere Quel team Sotto Dai ragazzi Ok Perfetto Secondo posto preso Ci prendiamo La stellina GG Questi raddoppi oggettoni Ragazzi Sono utilissimi Stiamo a 8 su 10 Taglietto tattico Andiamo con Brock Abbiamo scelto L'abilità stellare Quella di fuoco Che rimane Perché credo Ci stia bene Con la raffa gemme Perché Almeno fa anche Un po' da muraglia Cioè vedete Che ritto Oddio Mi sono bloccato Madonna Sto mortis E' poco scarso Pure io So scarso Mamma mia Ci stanno Proprio Stracciando Allora Conta la rovescia L'abbiamo perso Buona sta kill Torna Mannaggia Buona sti kill GG per me Ulti Non voglio sbagliare Proprio adesso GG E con mortis Funziona Chi è Raga non so Cosa Che è successo Che è successo Cambiamo abilità stellare Magari Magari ci va meglio Vediamo Non è male Il team Non sbaglio Non sbaglio Un colpo Mamma mia Fenomeno Ok Fiamo in salvo Relativamente Ok Ok GG Siamo 22 a 7 Li chiamano Ma non mi hanno mai preso La prima volta che l'ho 33 a 22 Cioè con me hanno fatto Solo con me hanno fatto 7 punti No Ho sbagliato sto colpo Mannaggia a me Siamo sempre in vantaggio Non ci dobbiamo preoccupare Ok GG per la kill Lancio a caso Lancio solamente Dove è l'unico posto Dove non c'è lui GG per tutte le kill Fatte da Piper E da La sto tizio GG Stravinta Raga 49 a 37 Benzo Un momento Prendiamo finalmente Sto gettone stella Ancora 290 La doppia Gettone Ci andiamo ad aprire 3 ceste E una grande Perfetto Vai Buono così Caricamento 25 tara Se ho genio 8-8 bit 8-8 bit Cassa enorme 2 skip Non è possibile Cioè mi da sempre 2 skip Comunque ragazzi Spero che il video di oggi vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Ci vediamo al prossimo video Bella Alla.